Un saluto e bentrovati alla voce delle istituzioni, ci troviamo oggi nella sede dell'Uls1 Dolomiti qui a Belluno in Via Feltre, incontriamo la direttrice generale Maria Grazia Carraro, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Iniziamo parlando naturalmente e sarà purtroppo una lunga conversazione di coronavirus, questa emergenza che sembra nelle nostre teste magari essere giunta al termine, vogliamo fare un bilancio di questo anno passato qui nel bellunese? È argomento impegnativo perché la pandemia da due anni condiziona molto le nostre vite personali e anche le nostre vite professionali. Abbiamo avuto questo virus che è arrivato due anni fa, poco più di due anni fa, che ci ha obbligato a rimodulare le nostre attività e ad aprire delle nuove linee che non avevamo. Prima era importante capire come poter cercare di isolare i casi positivi perché non si diffondesse. Dopodiché abbiamo avuto i primi pazienti che accedevano negli ospedali e quindi bisognava capire come curarli perché vi ricordo che è una patologia completamente nuova. Dopo è arrivato un anno fa, poco più di un anno fa è arrivato il vaccino, con quindi la necessità di vaccinare, fare una vaccinazione di massa molto estesa su tutte le fasce di popolazione, che è l'operazione che in qualche modo ha coinvolto e ha condizionato molto il mio primo anno in questo territorio. Io sono arrivata il primo marzo, poco più di un anno fa ed era proprio l'avvio della campagna, eravamo in un momento in cui avevamo ancora parecchi ricoveri, poi durante l'estate un po' la pressione sugli ospedali è rientrata. È ripartita con un numero molto importante di positivi, di persone positive, con l'arrivo soprattutto delle varianti e questo un po' ha dovuto intensificare la campagna di tamponi, di vaccinazioni e di contact tracing che in questa azienda è stata fatta. Queste operazioni sono state rese possibili grazie a una rete che io definisco straordinaria, che questo territorio ha messo in campo, perché se è vero che dal punto di vista sanitario il carico maggiore era dell'azienda, perché era un problema sanitario, devo dire che tutte le istituzioni di questo territorio si sono prodigate per poter supportare, aiutare e tante volte sorreggere le nostre attività. Dalla Prefettura ai sindaci, alle associazioni di volontariato che hanno veramente aiutato i nostri operatori nei diversi punti a garantire questa capillarità, ma non si può dimenticare la protezione civile, non si possono dimenticare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie territoriali, cioè tutta la rete sanitaria ha veramente fatto squadra insieme e abbiamo cercato di andare tutti quanti nella stessa direzione. Questo ci ha permesso di vaccinare in tempo rapido una cospicua fetta di popolazione del nostro territorio, partendo prima dalle persone che erano più fragili e poi estendendola a tutto il resto. Molto particolare, molto bello, molto coinvolgente sono state anche le persone, le singole persone che si sono anche prestate ad essere dei testimonial d'eccezione per l'attività di informazione e promozione che abbiamo fatto nel territorio. Tutte queste cose ci hanno fatto sentire non soli, ma insieme siamo riusciti a raggiungere una quantità di persone che abbiamo potuto sottoporre alla vaccinazione molto elevata. Abbiamo anche adesso più dell'86% della nostra popolazione che addirittura ha fatto la terza dose e questo in qualche modo ci ha aiutato a tenere, soprattutto in quest'ultima parte, nell'ultima parte del 2021, una pressione più bassa negli ospedali, sia nei pronti soccorsi, sia nei reparti. Il numero di ricoveri è sostanzialmente diverso a quello che si era registrato l'anno prima, tra il 2020 e il 2021, anche se abbiamo avuto moltissimi positivi in più, ma tantissimi positivi in più. Un altro elemento che un po' secondo me ha caratterizzato il nostro territorio è stata le novità che si sono succedute per la terapia di questa malattia. A un certo punto sono arrivati i farmaci monoclonali, sono dei farmaci molto particolari che andavano prescritti in ambito squisitamente ospedaliero, però devo dire che con la parte ospedaliera si è avuto un'idea secondo me vincente. Non abbiamo aspettato che le persone con i sintomi, con i primi sintomi e che avessero alcuni criteri, chiamassero, chiedessero aiuto. Sono stati i nostri medici che hanno chiamato a casa questi pazienti positivi e gli hanno proposto la terapia. Abbiamo fatto più di 380 trattamenti con questi farmaci e delle persone che sono state trattate e che erano ovviamente positive, queste non hanno avuto bisogno di ricorrere con la stessa intensità alle cure ospedaliere invece delle persone che non hanno accettato questo tipo di terapia o che hanno fatto delle scelte diverse. Nel 2021, anche a fine anno, nonostante questa ondata di positivi molto importante, siamo riusciti a garantire le attività dai pronti soccorsi alle attività ambulatoriali e alle attività di ricovero in maniera molto superiore rispetto all'anno precedente e per certi versi abbiamo raggiunto anche gli stessi target del 2019 e questo sicuramente è una cosa che è molto positiva perché dobbiamo pensare al Covid ma dobbiamo sicuramente pensare con la stessa intensità anche agli altri problemi di salute del territorio. L'altra cosa che ha contraddistinto un po' quest'anno è per fortuna la tranquillità se così possiamo dirla della infezione del Covid nei centri servizi del nostro territorio. Nella seconda ondata non abbiamo avuto quei grandissimi focolai, quella situazione che si era creata l'anno precedente e questo ha consentito di gestire anche questi elementi con maggiore tranquillità. Devo dire che il Covid ci ha sconvolto, ci sta insegnando anche tante cose, però per quanto riguarda questo territorio ho visto che dalle valutazioni che si stanno facendo noi abbiamo registrato in questo territorio un tasso di mortalità che è più basso rispetto a tanti altri territori. Noi rispetto ai tre anni precedenti al Covid abbiamo avuto un aumento del tasso di mortalità del 6% contro una media del 13%, quindi vuol dire che tutte queste azioni, tutti questi elementi messi in fila in qualche modo ci hanno aiutato a lavorare molto, agire molto sulla prevenzione primaria e secondaria e anche sulla attività di cura che abbiamo fatto all'interno delle nostre strutture. Questo è un bellissimo risultato dal mio punto di vista che deriva proprio dalla sinergia e dalla collaborazione che c'è stata. Questo a livello di storico, attualmente la situazione com'è e anche dal punto di vista psicologico la gente si crede magari che sia finito tutto, è così? Allora in questo momento noi abbiamo ancora dei pazienti ricoverati, abbiamo un tasso di incidenza incidenza che si è riattestato al di sotto della media nazionale, quindi devo dire bene, abbiamo ancora tutti i giorni dei nuovi positivi. Stiamo registrando anche noi un calo significativo, sta leggermente rallentando la curva di caduta, però direi bene. Questo bene però non vuol dire che dobbiamo perdere che dobbiamo perdere le buone abitudini che abbiamo imparato in questo periodo. Noi siamo in un territorio in cui c'è ancora la temperatura un po' più fresca rispetto ad altri territori, sappiamo che è un virus, altamente la variante che sta girando è altamente diffusiva e quindi basta poco per prendersela. Quindi non dobbiamo dimenticare l'uso della mascherina, soprattutto quando siamo con altre persone, avere l'attenzione quando abbiamo raffreddore, quando abbiamo alcune sintomatologie di farsi un tampone, di verificare se siamo positivi o no. Questo per proteggere noi stessi e per proteggere i nostri familiari e i nostri contatti. Lavarsi le mani, areare molto il locale, non abbassare la guardia. Il nostro è un territorio montano, cambiamo argomento, parliamo di telemedicina, una branca della quale lei è un alfiere, ci vuole parlare dell'importanza della telemedicina nel nostro territorio così frammentato. È il nostro territorio che è veramente molto esteso. Diciamo che la telemedicina è un mezzo, è uno strumento che se utilizzato bene può aiutare a venire incontro alle persone. Per noi gli spostamenti pesano parecchio perché appunto siamo distribuiti in un territorio molto vasto e montano. Allora la telemedicina può aiutare ad avvicinare i pazienti ad avere quelle stesse prestazioni senza evitando tutta una serie di spostamenti. Abbiamo cominciato perché quest'anno pandemico ci ha impegnato molto nella gestione della pandemia che abbiamo in corso, però siamo riusciti anche a dare vita qualche applicazione di telemedicina che credo sia uno degli strumenti che dobbiamo potenziare ulteriormente nei prossimi mesi, nei prossimi anni. È un processo che si comincia e si va avanti. Un po' per mettere in sicurezza abbiamo dotato tutti i nostri mezzi di soccorso di alcune apparecchiature, alcuni elettrocardiografi che trasmettono in automatico il tracciato, l'elettrocardiogramma alla cardiologia, in maniera che anche dai punti più periferici del nostro territorio, qualora ci sia un dubbio che ci possa essere un problema cardiologico, il cardiologo lo vede in diretta e quindi può indirizzare il mezzo di soccorso nel punto più appropriato per il tipo di problema del nostro territorio e riduce i tempi perché quando un paziente arriva di lui conoscono già qual è il problema e quindi acceleriamo anche i tempi di risoluzione. Abbiamo le cardiologie che oggi hanno la possibilità di tenere monitorato da remoto i defibrillatori, tutti quei dispositivi impiantabili che sono dei salvavita per le persone senza che le persone accedano agli ospedali. Questo aumenta un po' la sicurezza delle persone perché sicuramente sanno che quel dispositivo funziona bene e che se c'è qualcosa di anomalo vengono chiamati e averlo fatto diffusamente nel nostro territorio stiamo dando questo servizio che evita una serie di accessi inutili, dico inutili perché la tecnologia ci aiuta a gestirlo, sul buon funzionamento di questi dispositivi. Poi abbiamo creato con alcuni retinografi che sono stati distribuiti presso i nostri centri antidiabetici, abbiamo inaugurato a Pieve di Cadore ma l'abbiamo attivato anche ad Agordo e lo stiamo attivando nelle altre sedi, la possibilità per il paziente che va a farsi un normale controllo presso il centro antidiabetico per il diabete di fare anche questo esame che viene in automatico inoltrato all'oculistica, lo specialista lo valuta se non ci sono problemi tutto si risolve così, se ci sono problemi il paziente viene chiamato. Abbiamo evitato al paziente due cose, di farsi fare l'impegnativa, prendere l'appuntamento e andare dalla sua abitazione alle nostre oculistiche che abbiamo a Belluno e a Feltre. Queste sono delle applicazioni che secondo me garantendo la qualità della prestazione sanitaria vanno incontro ad alcune esigenze del paziente e delle loro famiglie. La telemedicina è quindi uno strumento che proprio per la nostra configurazione può aiutarci anche su questo. Noi siamo in chiusura, avremo avuto ancora tanti argomenti di cui parlare, lo faremo sicuramente alla prossima occasione. Grazie ancora alla dottoressa Carraro per l'ospitalità, grazie a voi per averci seguito, arrivederci.